Candidatura per l'efficientamento energetico dell'ex tribunale ed approvazione della nuova illuminazione a Boscariello e quanto disposto dall'aggiunta municipale di Eboli nel campo delle opere pubbliche. Da un lato la sistemazione definitiva della zona a Boscariello con la nuova illuminazione attesa dai residenti ormai da molti anni, dall'altro la realizzazione di un progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'ex tribunale che amministrazione ed uffici hanno predisposto per la candidatura a finanziamento una volta reso pubblico il bando. Un lavoro del tutto nuovo ricorda il vice sindaco con delega ai lavori pubblici Cosimo Pio di Benedetto che abbiamo messo in piedi con l'uscita del bando per garantire nuove opere alla città.